Tragedia nelle campagne di Iscicli, un bambino di 5 anni ha perso la vita cadendo in una vasca di irrigazione di un terreno dei nonni mentre stava giocando oggi pomeriggio e il piccolo sarebbe morto per annegamento vana alla corsa in ospedale. Si sono concluse intorno alle 14 le operazioni di sbacco a Pozzallo degli immigrati coinvolti nella sparatoria di ieri che è costata la vita ad uno dei passeggeri del Gommone, aperta un'indagine contro i gnoti per omicidio. Gianluca Impellizzeri è stato arrestato questa mattina insieme al presidente del Catania, Nino Pulvirenti, al suo vice e al DS, l'ex idolo dei tifosi del Modiche, accusato di avere finanziato l'acquisto di almeno 5 match. I tanti anche quest'anno hanno risposto all'appello della Guardia di Finanza di Ragusa che ha organizzato l'undicesima edizione della giornata dedicata alla donazione di sangue, un evento ormai radicato nella realtà iblea. Benvenuti ad MTG dunque l'avete sentito dai titoli in apertura c'è la cronaca con la tragedia di oggi pomeriggio a Scicli in Contrada Spinazza. Un bambino di 5 anni annegato in una vasca per l'irrigazione mentre giocava nel terreno di proprietà del nonno. E' stato lui ad accorgersi di quanto accaduto e a cercare di soccorrere in vano il nipotino. L'uomo si è precipitato in ospedale ma tutto è stato vano. Il piccolo era morto, annegato. Sentiamo tutti i dettagli dal servizio. Tragedia oggi pomeriggio nelle campagne sciclitane di Contrada Spinazza a Monte di Donna Lucata. Un bimbo di 6 anni è morto annegato dopo essere caduto per cause in costo di accertamento da parte dei carabinieri in una vasca di irrigazione parzialmente piena d'acqua. A fare la tragica scoperta sarebbe stato il nonno del bambino che dopo averlo cercato in vano lo avrebbe trovato esanime. Il nonno lo ha subito recuperato e dopo aver tentato in vano di rianimarlo lo avrebbe immediatamente portato all'ospedale Busacca di Scicli dove i medici però non hanno potuto fare altro che constatare che il piccolo era morto. La causa del decesso sarebbe stata provocata da sfissia, da annegamento ma non è escluso che il bambino abbia prima perso i sensi sbattendo la testa sul fondo della vasca. Sono stati i medici del Busacca a chiamare i carabinieri che adesso dovranno ricostruire l'esatta dinamica della tragedia che si è consumata oggi pomeriggio intorno alle 17.30. Il bambino sarebbe caduto nella vasca mentre giocava. Si sono concluse intorno alle 14 le operazioni di sbarco al porto di Pozzallo degli immigrati coinvolti in una sparatoria a largo della Libia. Molti di loro dopo essere stati visitati dal medico sono stati condotti in ospedale. Intanto la procura di Agrigento ha trasmesso il fascicolo delle indagini con le dichiarazioni dell'immigrato rimasto ferito durante l'attentato alla procura di Ragusa che ha aperto un'indagine contro i gnoti per omicidio, tentato omicidio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Viviana Sammito. Alle 13.50, 294 migranti, tra cui 237 uomini, 51 donne e 6 minori provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Gambia e Bangladesh sono entrati nel centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo dopo una lunga e tragica attraversata sul canale di Sicilia dove ha perso la vita un migrante del Gambia ed è gravemente rimasto ferito uno. Tutti gli immigrati sono in buone condizioni ma il medico del porto, il dottor Morello, ha disposto il trasferimento all'ospedale di 8 donne incinte, 4 a Modica, 2 a Vittoria e altre 2 a Ragusa. Una minore e un uomo sono stati trasferiti allo soccorso a Modicano per un malessere, ipotermia e disidratazione procurati durante il difficile viaggio. Le testimonianze degli immigrati sopravvissuti alla sparatoria sono determinanti per gli investigatori che stanno ricostruendo il quadro del delitto. L'immigrato morto è stato trasferito intorno alle 10.30 di stamane all'obitorio del cimitero di Pozzallo dove il pubblico ministero di turno e il sostituto procuratore Valentina Botti ha disposto l'autopsia dopo aver già nominato il medico legale. Il PM era presente al porto durante le operazioni di sbarco in attesa degli interrogatori, prima il comandante della nave battente bandiera Panamense che ha soccorso i migranti e dopo a tutto il gruppo testimone dell'agguato. Il ferito, un immigrato del 32enne originario del Gambia ricoverato all'ospedale Giovanni di Dio e di Agrigento, ha raccontato che dei miliziani libici hanno abbordato con una moto vedette il gommone per derubarli, quando però si sono ribellati e hanno sparato. Io sono rimasto ferito, ha raccontato un altro migrante morto. Lui ha reso le sue dichiarazioni da procuratore e da Agrigento Renato di Natale, già trasmessa alla procura di Ragusa, unica titolare dell'inchiesta, che però potrebbe anche essere stesa a quella di Catania se gli inquirenti, oltre all'omicidio, al tentativo di omicidio e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contestano il reato dell'Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Tra l'altro la procura eblea deve fare i conti con un altro dato, verificare se l'omicidio è avvenuto in acque internazionali o territoriali, oltre ad identificare i responsabili ed evituare il movente. E continuiamo ancora con la cronaca perché l'ex idolo del modica calcio Gianluca Impellizzeri è tra gli arrestati nell'inchiesta Il Treno del Gol, che ha portato in manette tra gli altri anche il presidente del Catania Calcio Nino Pulvirenti. Impellizzeri avrebbe avuto un ruolo centrale nell'organizzazione che aggiustava partite dello scorso torneo di Serie B per fare salvare il Catania. L'indimenticato Re Leone ha vissuto proprio in rosso-blu i suoi migliori anni di carriera. Sentiamo il servizio di Giuseppe Ragona. Il Re Leone non ruggisce più e non perché negli anni ha perso parte della chioma che l'ha reso famoso nel calcio direttantistico siciliano, almeno quanto le sue straordinarie punizioni. Il Re Leone ha perso lo scettro nel momento in cui si è invischiato nella parte più sporca del nostro amato pallone. Gianluca Impellizzeri è tra i sette arrestati dell'indagine della Procura di Catania che ha scoperto le carte truccate al presidente del Catania Nino Pulvirenti, al suo braccio destro l'emblematico Pablo Cosentino e al direttore sportivo Daniele Delicarri. Gianluca Impellizzeri, fedele al suo ruolo di prima star in campo, anche questa volta ha avuto un incarico di fondamentale importanza. Secondo l'accusa sarebbe stato lui a trovare materialmente i soldi che servivano per acquistare le cinque partite incriminate che sono valse la salvezza ai rosso-azzurri. Un merito che lo stesso ex numero 10 del Modica si cuce addosso come una medaglia durante una telefonata intercettata. Andiamo nei play-off, andiamo! Poi dopo ti racconto una cosa e avanti, quattro vittorie consecutive. Alla grana. Stiamo a volante. Alla grana pure, negli altri 1500 euro con la carta di credito, non li potete manco giocare. Mi dispiace veramente. E c'è finché mi dispiace, comunque viva lo sport. Ma pure perché Luca il Catania ci ha pensato e lo sport ha canalizzato tutta la confitta per zero. è una delle ricerche, è una cosa troppo scartica. Il Catania è stato il campionato più strano che una scuola possa fare. Se non ci pensiamo noi, queste cinque partite eravamo retrocessi. In Pellizieri, dopo il suo ritiro dal calcio qualche anno fa, gestisce un'azienda di scommesse online. Attraverso questa attività sarebbe rientrato abbondantemente ad ogni partita dagli esborsi fatti. 10.000 euro a calciatore per aggiustare i risultati. Da calciatore si fece conoscere con il bel passo dei miracoli. Presidente Nino Pulvirenti, allenatore Pino Rigoli, vinse un torneo di eccellenza in volata sul Modica di Antonio Urnia, che si innamorò di lui e lo volle portare l'anno successivo nella Contea, insieme al tecnico Rigoli e allo zoccolo duro di quel bel passo, Corbino, Di Mauro e D'Arrigo su tutti. A Modica ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Dal 2002 al 2005 ha vinto il torneo di eccellenza, riportando il rosso-blu in Serie D dopo 30 anni. Ha vinto il titolo di capocannoniere nel 2003 e nel 2004. Le sue punizioni sono diventate calci di rigore per l'alta percentuale di realizzazione. Nel 2005 però, a Urnia e l'allora di S. Sorbo decidono di non puntare più su di lui, preferendogli un altro grande vecchio, come Nino Barraco e Carmelo Bonarrigo. Il Modica vince la Serie D e torna tra i professionisti. Il Re Leone va a Palazzolo, dove dimostra di non essere ancora finito, rivincendo il titolo di capocannoniere in eccellenza. Nel 2006 torna Modica, appena radiato, da avversario però con la maglia del Palazzolo, e viene accolto dagli applausi dei tifosi che lo hanno sempre idolatrato. Finisce la carriera sempre da protagonista, come è sempre stata tutta la sua carriera, come ancora una volta in questa triste storia. Nuova raffica di perquisizioni a Comiso, da parte dei carabinieri indirizzati a quei soggetti già noti alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione del giovanissimo pregiudicato Gianluca Zago, sono stati trovati ben sette panetti di hashish, pronti per essere venduti al dettaglio. Il diciottenne, già noto per reati riconducibili sempre allo spaccio, è stato arrestato. I carabinieri di Comiso hanno arrestato il diciottenne pregiudicato Gianluca Zago, nella cui abitazione sono state ritrovate sette stecchette di hashish già suddivise in dosi e quindi pronte per essere smerciate e messe sul mercato. Lo stupefacente era ben occultato all'interno di un pacchetto di sigarette, a sua volta celato dietro il mobiletto di uno sgabuzzino, dove sarebbe stato quasi impossibile individuarlo senza l'aiuto dell'unità cinofila dell'arma, composta dal cane Ivan, il cui fiuto, non appena entrato nello sgabuzzino, veniva immediatamente attirato nella zona dove era nascosto lo stupefacente. Inoltre, a poca distanza, occultato sopra un altro mobiletto, veniva rinvenuto anche un coltello a serramanico, ancora intriso della stessa sostanza stupefacente rinvenuta poco prima e quindi sicuramente utilizzato per tagliare lo stupefacente da suddividere in dosi da spacciare al minuto. Zago, nonostante la giovane età, è già ben noto ai carabinieri che nel mese di febbraio del 2014, quando era ancora minorenne, lo avevano arrestato perché sorpresa spacciare Ascice ad altre due giovani comisani. Inoltre, meno di un mese fa, veniva nuovamente trovata in possesso di altri 14 grammi di Ascice e segnalata all'autorità giudiziaria. Gianluca Zago è fratello di Francesco, già arrestato in passato per lo stesso reato e convivente dello stesso fratello. Per tale motivo l'abitazione perquisita era da tempo sotto osservazione da parte dei militari dell'arma. Le indagini adesso proseguiranno per individuare la provenienza dello stupefacente e per cercare di capire se Zago sia il componente di una più vasta rete di spacciatori operante sulla piazza di Comiso. L'impegno è che si vada in aula il 30 giugno. Sono dell'idea che prima di tutto dobbiamo attribuire le funzioni ai liberi consorsi e alle città metropolitane. Così il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, al termine dell'incontro con una delegazione dei dipendenti dell'ex provincia siciliana, oggi scesi in piazza Palermo. Ardizzone ha ribadito che se non si fa la legge di riforma si va al dissesto delle province. Se si va al dissesto delle stesse, è chiaro che a cascata c'è il dissesto della regione con voto anticipato nel mese di ottobre. Urla, insulti, tensione alle stelle. L'assemblea pubblica voluta ieri dal sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, per spiegare le ragioni di certi importi sulle bollette dell'Atari è degenerata in un clima rivoluzionario. I pozzalesi erano pronti a far valere le proprie ragioni in tutti i modi. Il primo cittadino e il suo vice a fatica sono riusciti a parlare tra il caos generale. Sentiamo. Clima da resa dei conti ieri pomeriggio a Pozzallo. La popolazione è insorta dopo le ultime bollette Tari, giudicate e spropositate, che sono state recapitate a commercianti e semplici cittadini nei giorni scorsi, tra i quali la maxi cartella da 17.941 euro che un gestore di un lido ha ricevuto. Il sindaco Luigi Ammatuna e il suo vice Gugliotta hanno incontrato ieri i pozzalesi per tentare di spiegare i tanti perché di questi conti salati che in alcuni casi, come ci hanno detto i diretti interessati, hanno registrato un aumento del 300% rispetto all'anno scorso. La pubblica assemblea ha vissuto attimi di tensione, rabbia, urla e insulti. La gente esasperata è quello a cui abbiamo assistito ieri nella più chiara dimostrazione. Io al 31 dicembre ho chiuso l'attività con quattro dipendenti e più titolari. Il titolare è che mio figlio è andato fuori a lavorare all'estero e i dipendenti sono disoccupati. Una carrozzeria. Dicono che hanno ragione, che è la stabilità. Non lo so. Ma che stabilizza? Noi o loro? Non vogliono pagare le tasse. Nel giusto le pagano i cittadini pozzalesi. E che sono triplicati. No, quattro. 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 Quattro piccolati. Sentite presi in giro? Eh? Ma no, una volta. Sì. Cento volte, cento volte, perché ormai questi buffoni e pagliacci lo fanno di proposito per rompere. Ma non si parla di differenziato. Dove vanno a finire questi soldi? No, il cittadino vuole sapere, no? Facciamo questi differenziati. I soldi chi se li prende? Nei comuni civili, quando si aumenta, ha differenziato. Si abbassa la spazzatura? Si abbassa nei costi? Qua invece aumentano? A me a casa, qua siamo due persone. Io e mia moglie. E c'è arrivato 500 euro di tari. Come mai? Dove vanno a finire questi soldi qua? Come detto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il caso Sbelli, è stata la bolletta recapitata al gestore del lido privato, che ieri era in prima fila a far avvalere le proprie ragioni. L'articolo 36 mi sembra che dice che in base al lavoro che si fa, l'uomo deve vivere in dignità e in libertà, perché quello stipendio è quello che ci tiene una dignità. Me la stanno togliendo, io non ho più una dignità, perché lavoro dalla mattina alla sera, facendo i calcoli non mi rimane niente. Ora con una stancata del genere, significa che io andrò ancora più basso di 20.000 euro. Io appenderò le chiavi, io lavoro in nero, perché dato lo Stato uscita di lavorare in nero, lavoriamo in nero, a meno so che 30 euro nette in tasca e posso vivere, perché io lavorare per uno stipendio mi sembra che è una cosa surreale. In tanti anche quest'anno hanno risposto all'appello della Guardia di Finanza di Ragusa, che ha organizzato in occasione del 241esimo anniversario del Corpo l'undicesima edizione della giornata dedicata alla donazione di sangue in divisa. Vediamo. È ormai una piacevole consuetudine ed un gesto di valore pratico e simbolico che questa mattina si è ripetuto per l'undicesima volta. All'Avis di Ragusa, la Guardia di Finanza, assieme alle altre istituzioni Iblee, ha dato vita alla giornata della donazione del sangue in divisa. E dare vita è il verbo più adatto, perché il sangue davvero è vita. Partecipo convintamente a questa giornata, anche perché donare il sangue significa salvare qualche vita umana e devo dire che qui in provincia di Ragusa l'Avis consente di salvare tante vite umane, perché per l'ottimo lavoro che riesce a fare è una delle prime province in Italia in quanto a raccolta di sangue. L'obiettivo primario di questa iniziativa, come detto ormai radicata a Ragusa, è quello di coinvolgere quante più persone possibili fra gli appartenenti al comparto sicurezza e in generale a tutta la pubblica amministrazione, nella prospettiva di un impegno costante e duraturo. E dare l'esempio poi a tutti i cittadini, donare il sangue è un gesto preziosissimo per aiutare il nostro prossimo. Doniamo il sangue, è un esempio che bisogna dare a tutti quanti, è un piccolo gesto ma di una grandissima importanza. Quindi speriamo che siamo arrivati all'undicesima edizione e ce ne saranno sicuramente delle altre. Noi faremo di tutti per mantenere lo spirito che tutti quanti ragusa, anima tutte le persone in divisa e tutta la pubblica amministrazione. E al termine della cerimonia oggi sono stati diffusi tutti i dati relativi ai primi cinque mesi di lavoro delle fiamme gialle in provincia tra i tanti, ne diamo alcuni, 24 sono stati gli evasori totali scoperti, 71 le persone denunciate per frode, oltre 4 milioni di euro il valore dei beni sequestrati per reati tributari, oltre 1.500 kg di tabacchi sequestrati. Da gennaio a maggio sono stati inoltre sequestrati 771 grammi di hashish e marijuana, 123 di cocaina, 5.223 i migranti soccorsi dalla Guardia di Finanza nelle operazioni di salvataggio, 162 mila i chilogrammi di rifiuti industriali sequestrati. Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri sono intervenuti in una abitazione di Comiso, allertati da una donna che ha trovato il marito, un pensionato, 76enne, morto con un colpo di pistola alla testa. Il personale medico giunto sul posto insieme ai carabinieri non ha potuto fare altro che riscontrare il decesso dell'anziano che si sarebbe tolto la vita. Non si conoscono le cause del tragico gesto. La salma su disposizione del sostituto procuratore Botti è già stata restituita ai familiari. Il nuovo servizio di refezione scolastica Ragusa, ancora prima di partire, è già al centro di un complesso dibattito in città. Il servizio. Quello appena concluso è stato un anno scolastico in cui molto ha fatto discutere il servizio di refezione scolastica Ragusa e parecchi genitori in più circostanze si sono lamentati della qualità del cibo. Il comune, secondo alcuni in ritardo, si è mosso e dopo alcune proroghe ecco la gara d'appalto e l'assegnazione dell'incarico a una nuova ditta, rivedendo però i parametri di spesa. In sostanza, per avere maggiore qualità, i pasti per gli alunni dovranno costare di più. La prima critica in ordine di tempo è stata quella di un genitore, Pierfrancesco Cilia, componente del Consiglio di Circolo della Scuola Ventre, secondo cui, con le nuove tabelle, il costo della mensa per le famiglie aumenta troppo. Per 20 pasti, i genitori con reddito molto basso, ad esempio, pagheranno non più 7 euro, ma 20, il triplo. Oggi arrivano le reazioni politiche. Le consigliere comunali, Sonia Migliore ed Emanuela Nicita, del Laboratorio 2.0, concordano sulla necessità che il servizio debba garantire una certa qualità, ma i nuovi costi, dicono, sono sproporzionati e andranno a ricadere maggiormente sulle fasce più deboli. Per i consiglieri del PD, Mario Dasta e Mario Chiavola, la rivisitazione dei parametri ISEE delle famiglie in relazione alla riflessione scolastica determinerà l'aumento a dismisura dell'importo richiesto per acquistare 20 tagliandi. Il sindaco, sempre oggi, risponde così. Ovviamente la qualità ha determinato anche un aumento, una rivisitazione di una base d'asta che prima era di 3 euro e qualcosa, se non ricordo male, lo scorso anno, adesso siamo partiti a quasi 5 euro, quest'anno come base d'asta. Infatti abbiamo avuto adesso un, credo, un 20% del ribasso, quindi comunque il pasto è di circa 4 euro, questo è il costo, ma si tratta di un costo adesso che permette di fare un pasto di qualità. E quindi chiedere qualcosa in più, 50 centesimo o un euro su 4 euro di servizio significa comunque pagare il 25% di quello che è il costo vero del pasto. Piccito poi, anche fuori dalle pieghe del bilancio, si dice pronto a verificare una soluzione all'aumento della quota chiesta alle famiglie. Se sarà possibile, l'amministrazione troverà altre risorse riducendo la spesa per la mensa a carico dei genitori. Cercheremo di verificare se ci sono dei margini per ritoccare le tariffe, dato che è possibile farlo anche prima del bilancio di previsione. L'Assemblea Nazionale di Union Camere svoltasi ieri a Roma ha eletto come nuovo presidente Ivan Lobello il servizio. Lo avevamo anticipato lo scorso 10 di aprile quando in una sua visita informale a Ragusa già si capiva che stava tessendo la trama per scalare Union Camere e ora la conferma. Ivan Lobello è il nuovo presidente di Union Camere, l'associazione rappresentativa di tutto il sistema camerale italiano. Sarà in carica per i prossimi tre anni. Lo hanno eletto ieri i presidenti delle Camere di Commercio italiane riuniti a Roma in occasione della 142esima Assemblea. Imprenditore, 52 anni, già vicepresidente di Union Camere, Lobello è stato anche il numero uno degli industriali siciliani e attualmente vicepresidente nazionale di Confindustria e presidente della Camera di Commercio di Siracusa. Nella sua nuova veste, in sostanza, ha ribadito concetti già espressi a Ragusa qualche settimana fa, ovvero che le Camere di Commercio possono svolgere un ruolo di grande rilevanza per la modernizzazione di tutta l'Italia. E benché la riforma in discussione in Parlamento costringe a ripensare in profondità il sistema camerale e ad innovare il modello operativo, bisogna essere pronti a fare la propria parte. Ivan Lobello più volte ha rimarcato come dall'accorpamento delle Camere di Commercio, Sicilia compresa, debba scaturire un sistema che abbia chiarezza nelle funzioni, un'organizzazione territoriale efficiente e naturalmente risorse adeguate e coerenti. Adesso la linea va alla regia, c'è la pubblicità tra poco. Torniamo in studio con un servizio dell'ufficio commerciale perché Conad Sicilia ha presentato il bilancio 2014 e le prospettive di sviluppo del prossimo biennio. Sentiamo i dati. Conad Sicilia ha presentato a Catania nel corso dell'annuale assemblea dei soci i dati del bilancio 2014, un giro di affari di oltre 302 milioni di euro, un patrimonio netto di 24,3 milioni di euro e una quota di mercato del 9%, sottolineando la validità del modello imprenditoriale del gruppo, focalizzato sul socio presente nel territorio e dunque vicino al mercato e alle persone. Anche nel 2014 l'azienda si conferma leader in Sicilia nella vendita di prodotti a marca propria con una quota del prodotto a marchio Conad sulle vendite dei prodotti di largo consumo confezionati, attestata al 23,5%, a conferma del ruolo strategico che la marca del distributore ha nello sviluppo e nella fidelizzazione all'insegna. L'assemblea, presieduta dal presidente Santo Italia, ha visto la partecipazione del presidente nazionale di Conad, Claudio Alibrandi, il presidente e segretario dell'ANCD Marzio Ferrari e Sergio Imolesi, Daniele Furlani e Moreno Batani di Conad nazionale, oltre a Pietro Piro, presidente Lega Cop Sicilia. Lo scenario evolutivo dei consumi in Italia e in Sicilia, trasformazioni e prospettive future, è stato il tema trattato dai relatori Romolo De Camillis, direttore Retail Nilsan Italia e Francesco Ragnolo, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Calabria. La cooperativa siciliana opera su tutta la parte orientale dell'isola e su Malta, con 130 soci che offrono lavoro a circa 1.500 addetti e oltre 150 punti vendita per una superficie complessiva di circa 70.000 metri quadrati. La nostra azienda è diventata un punto di riferimento per il territorio dichiarato Giorgio Ragusa, direttore generale di Conad Sicilia. Con 165 fornitori locali, Conad Sicilia ha sviluppato un fatturato di quasi 28 milioni di euro. Per il prossimo biennio, previsti investimenti per 5 milioni di euro. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, il nostro telegiornale si ferma qui. Grazie dell'attenzione prestata e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.